Dal 22 al 29 settembre 2012, a bordo della favolosa MSC Orchestra, ritorna la crociera della musica napoletana, l'appuntamento con la musica e la cultura partanopea. Ospite d'onore il grande Sal Da Vinci, con le sue splendide canzoni e con lui tanti altri artisti. Ricorda, solo prenotando alla Scoop Travel allo 081558 62 22, avrai la possibilità di assistere allo spettacolo di Sal Da Vinci e partecipare ad incontri con gli artisti. Mostre d'arte e ricevere cd autografati, foto e tanti favolosi regali, tutti made in Naples. La crociera toccherà Liborno, con escursione a Firenze, Nizza, Monte Carlo, Valencia, Ibiza, Tunisi e Catania. Prenota al più presto, le disponibilità sono limitate, con soli 50 euro puoi opzionare la cabina e pagarla comodamente senza interessi. E se non puoi più partire, no problem, con noi non paghi penali. Crociera della musica napoletana, dal 22 al 29 settembre con Sal Da Vinci e gli altri artisti, a bordo di MSC Orchestra. Salpa con noi per una settimana di vacanza l'insegna della grande tradizione artistica e musicale napoletana. Quote a partire da 530 euro più tasse. Info e prenotazioni Scoop Travel. A Napoli, Vomero, invia Bernini ed invia Tino di Camaino. Chiama 081 558 62 22 o vai su www.crocieradellamusicanapoletana.it Grazie a tutti.